Un assepramento di oltre 100 persone a bordo piscina, clienti baristi senza mascherina, mancanza di cartelli informativi anti-covid, personale in nero. Sono queste le violazioni riscontrate domenica sera dai carabinieri all'hotel Villa Pigalla di Tezze su Brenta, rinomato locale della Movida Bassanese. I controlli effettuati hanno portato ad elevare una multa di 8 mila euro ai gestori e una sospensione dell'attività per quattro giorni, provvedimenti che vanno visti come avviso a mettersi in regola per evitare sanzioni figure ancora più pesanti. I controlli hanno coinvolto i carabinieri della stazione di Rosà, il personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza e i tecnici Spisala lo scopera a verificare l'osservanza delle norme previste dal protocollo del governo. Durante il controllo sono state constatate una serie di violazioni o assepramento intorno alla piscina dove un centinaio di persone tutte identificate e chiacchieravano senza distanziamento. Il personale di servizio del locale come baristi senza mascherina mancava la cartellonistica informativa anti-covid. È stata verificata la presenza di lavoratori impiegati in violazione della legislazione in materia di lavoro in nero. Per tutte queste violazioni e peraltro in corso di valutazione sono state elevate una serie di sanzioni amministrative per un totale di circa 8 mila euro si è disposta alla sospensione dell'attività per quattro giorni.